Il Brighton di Roberto De Zerbi sta perdendo 4-0 contro la Roma di Daniele De Rossi Io sto registrando questo video prima della fine della partita perché mi sono bastati i minuti che ho visto Per valutare al meglio questo match oggi ovviamente andremo ad analizzare al meglio la partita della Roma E andremo ad analizzare soprattutto la partita del Brighton che è stata imbarazzante in fase di non possesso Questa squadra ha un problema nel difendere Questa cosa io ve la dicevo, ve la dico da mesi Da mesi ho ricevuto veramente tantissime critiche su Instagram un paio di mesi fa Quando il mondo intero parlava di Roberto De Zerbi Soprattutto qui in Italia io dicevo e continuo a ripetere questa cosa Roberto De Zerbi ha un problema nella fase difensiva È un allenatore che deve imparare che in determinate partite non può E non deve giocare uno stile di gioco così offensivo Oggi il Brighton andava ad affrontare una delle squadre più in forma nell'ultimo periodo in Europa Con dei giocatori che sono rinati con Daniele De Rossi Primo tra tutti Lorenzo Pellegrini Ve l'avevo detto proprio nell'analisi pre-match di questa partita Che Lorenzo Pellegrini e Paolo Di Bala erano la chiave di questa Roma E l'hanno dimostrato proprio oggi Ma bisogna dire la realtà di fatti Il Brighton ha commesso troppi, troppi errori nella fase difensiva E oggi lo andremo a guardare insieme Ed ecco qua, questi sono i due moduli Come le due squadre sono scese in campo Il Brighton con un 4-4-1 E dall'altra parte invece abbiamo una Roma con un 4-3-3 abbastanza lineare Ma la cosa divertente è che entrambe le squadre Appena è iniziata la partita Hanno cambiato totalmente l'assetto della squadra Partendo voglio partire dal Brighton di Roberto De Zerbi Che da 4-4-1 è passato ad una sorta di 3-4-3 E' abbastanza difficile da identificare il modulo Lo schema, lo stile del Brighton di De Zerbi Perché sia insiso che buonanotte Hanno praticamente svariato in tutto il campo Dall'altra parte invece possiamo dire che Daniele De Rossi è rimasto con il suo 4-3-3 iniziale Con una grande differenza Ed è stata la chiave di questo incontro Esha Raui in fase sia di possesso Ma soprattutto in fase di non possesso Si andava ad affiancare Si andava ad avvicinare a Spinazzola E Cristante si andava ad affiancare a Selic Così Daniele De Rossi ha letteralmente annullato Lo stile di gioco del Brighton Perché quando il Brighton provava ad attaccare Andando a spingere quindi, che ne so, sulla zona di sinistra Con i vari insiso, con grosse Quindi andava a cercare di perforare la Roma Nella zona, come abbiamo detto, sinistra La S Roma di Daniele De Rossi riusciva a chiudere Ogni azione pericolosa Perché si andava a comporre un 3-3 Un 4-4 E il Brighton aveva veramente tantissime difficoltà Ha avuto tantissime difficoltà stasera A proporre uno stile di gioco offensivo E questa è stata veramente una bella cosa fatta da Daniele De Rossi Che ha capito che le fasce del Brighton andavano annullate Infatti all'inizio abbiamo visto un Laptei molto molto attivo A dire la verità è stato sempre attivo per tutto il match Ma nel percorso, andando avanti nella partita Laptei, Laptei, pronunciatelo come volete Piano piano si è andato a spegnere Perché questo raddoppio di Esciarawi e Spinazzola Ha creato tantissime difficoltà Anche alla costruzione dalla parte destra del campo di Roberto De Zerbi Dall'altra parte però De Zerbi Non ha limitato il suo modo di pressare E infatti in fase di possesso anche quando la Roma partiva dal basso Con Selic o con Mancini o con lo stesso Svilar Il Brighton non si limitava a mantenere delle posizioni stabili Cercando di chiudere a zona No, il Brighton come al solito è andata sotto con tutti gli effettivi È andata a marcare ogni possibilità per la S Roma Di passare la palla nelle vicinanze Ma questo ha creato una situazione di pericolo per il Brighton Una, tantissime situazioni di pericolo Perché nel momento in cui la Roma doveva uscire Non usciva in maniera stupida Era quello che vi avevo detto proprio ieri L'altro ieri, non ricordo quando è uscito il video su Roberto De Zerbi La Roma ha sfruttato il grande limite del Brighton Che è quello di lasciare dei fori durante la fase di non possesso E se tu sei bravo a costruire Sei bravo a utilizzare quei buchi che il Brighton lascia Appositamente perché non riesce a ricoprire tutte le zone del campo Tu il Brighton lo distruggi Infatti molte volte cosa è successo? Prendiamo tipo il primo gol che fa la S Roma Paredes con il pallone tre piedi cosa fa? Va a cercare il lancio lungo Va a cercare il passaggio progressivo Va a cercare quella zona di campo Che non è coperta dai giocatori del Brighton La partita è stata sempre in questo modo qui E io non sto dicendo che la Roma di Daniele De Rossi Ha giocato un calcio difensivo Assolutamente no La Roma di Daniele De Rossi ha preparato la partita Come doveva essere preparata Era consapevole che il Brighton di De Zerbi Andava a tutto spiano Addosso ad ogni singolo giocatore Anche a chi non portava il pallone E quindi l'unico modo per uscire Gli unici due modi per uscire da questa situazione Erano due Il primo è il lancio lungo E l'abbiamo visto in tante situazioni La Roma si è resa pericolosa tantissime volte Con questi lanci lunghi Fatti da giocatori come Di Bala Pellegrini, Paredes e Sharawi Giocatori anche lo stesso Cristante Giocatori che hanno un piede delicato Che riescono comunque sia A calibrare bene il passaggio Il secondo punto Cioè il secondo modo Che Daniele De Rossi ha utilizzato Per annullare il Brighton Sono le triangolazioni Questo ha mandato completamente in confusione L'idea tattica del Brighton Perché nel momento in cui Prendiamo una situazione Una costruzione dalla sinistra Perché la fase sinistra Non so se l'ick Ma è stato spettacolare Ma Spinazzola e Sharawi ragazzi A me Mi sono piaciuti proprio Mi sono veramente piaciuti Soprattutto Sharawi mi è piaciuto Nella fase difensiva È stato incredibile E Sharawi veramente Giocatore completo Giocatore troppo sottovalutato in Italia Perché veramente in questo momento Riesce a fare entrambe le fasi In maniera perfetta Comunque cosa faceva la Roma Per uscire da questa pressione Fatta dal Brighton Mettete caso che Andava con questa costruzione dal basso Quindi il Brighton si spostava Per cercare di creare pressione E quindi costringere La Roma a lancio lungo Quindi lanciare il pallone In una zona del campo Lontana Cioè creando quella situazione Dove la Roma perdeva il possesso Al 90% delle volte Quindi andando Adesso vi faccio vedere Con un esempio Che ne so Indica Lancia Alla ricerca di Di Bala Lukaku Pellegrini Ai giocatori offensivi Questa cosa è successa Molte volte la Roma Ha cercato questo Questa costruzione A palla lunga E non è sbagliato Ma ha utilizzato Ancun altro metodo Che come ho detto in precedenza Sono le triangolazioni In determinate situazioni di campo Quando quindi La Roma Andava a costruire Adesso io vedendo per esempio Con Dica Come primo Possesso Cosa succedeva? Che Spinazzola Cercava subito il passaggio Cercava subito di ricevere il passaggio E quindi Dica andava a passare il pallone Ovviamente la pressione del Brighton Aumentava Perché L'intenzione è quella di Chiudere subito Qualsiasi spazio Ma la Roma È stata bravissima Riproporre Quei passaggi stretti Più di una volta Quindi abbiamo visto Tante volte Spinazzola Passare la palla E Sciarawi Poi Spinazzola Scattare Cioè abbiamo visto Tante volte Sia Spinazzola Che Selic Scattare Dopo aver Completato il passaggio Ed E Sciarawi Seguendo In questo caso Vi prendo l'esempio E Sciarawi Seguendo il movimento De Spinazzola Andava a ridare Il pallone A De Sciarawi E non finiva qui Questa possibile costruzione Perché poi Sciarawi Partiva Nel momento in cui Spinazzola raccoglieva Il pallone L'ha dato Da E Sciarawi In quello scambio stretto E Sciarawi Si riproponeva Più avanti E questo Ha creato Al Brighton Un sacco di confusione Perché nel momento In cui tu vai A pressare Con tutti gli effettivi Questo Ti comporta Dei buchi Soprattutto se tu Non sei una squadra Forte Cioè se tu non sei Una squadra Con dei singoli Importanti Io non sto dicendo Che il Brighton Abbia dei singoli Scarsi Anche perché Nel complesso Il valore rossa Del Brighton È molto più alto Non mi ricordo De quanto Ma è molto più alto Quello della Roma Però Non ha dei giocatori Cioè prendiamo il City Se il City Se propone Che ne so Mettete caso Un giorno Scappa Roma City Il City Propone il gioco Proposto da Roberto De Zerbi Stasera Contro a Roma Il City Al 90% Dei casi Due Gol Tre gol Te li fa Te li fa Perché il livello Della rossa È così alto Che i giocatori Vanno in autogestione Questa è una cosa Che tante persone Che analizzano Il calcio Non mettono Alcuni giocatori In determinate situazioni Di campo Vanno in autogestione Si gestiscono Da soli Se tu Si Se tu hai il City Se tu Guardiola Proponi questo gioco Sei consapevole Che Ruben Dias Chiude Quel determinato Spazio Che Lascia libero Un'uscita Sbagliata Del terzino In questo caso E non è solo questo caso Anche col Fulham Anche in altre situazioni Il brato De Zerbi Questa cosa Non la fa De Zerbi Manipola I giocatori Che ha E li costringe A creare Questa situazione Dove quindi Abbiamo detto Spinazzola Riceve il pallone Dandica Quindi lo va A rigiocare Per Esciarawi Spinazzola Parte Esciarawi Scambia Con Spinazzola Poi Esciarawi Si ripropone Nel frattempo Quindi Quella pressione Del Brighton Va vuoto E i giocatori Cercano di rincorrere Il portatore De palla Ma ormai Qui In questa situazione Qui che succede Che i giocatori Della Roma Partono I difensori Del Brighton Cercano di coprire Ma Si va a creare Delle voragini In mezzo al campo Soprattutto ragazzi Sul gol De Cristante Cioè il gol De Cristante Credo che sia L'esempio più lampante Del problema Del Brighton Bastano Degli scambi Stretti Rapidi Per mandare A sedere Non due giocatori Ma per mandare A sedere L'intero sistema Cioè questa è una cosa Che non può Andare avanti Per il Brighton Non può funzionare Questo sistema qua Perché adesso Io proverò Tramite Registrazione A mostrarvi Quello che è successo Quindi ho deciso Viene incontro E non solo Si sposta anche al centrale Il centrocampista Centrale Nel frattempo Però Gli attaccanti Cercano Di creare Una situazione Dove Riescono A trovare Qualche buco Qualche Zolla libera E ovviamente I giocatori del Brighton Vanno di conseguenza E si vanno a muovere Per chiudere Le possibili ripartenze Ma questo scambio Che sta per arrivare Trasherawi Spinazzola Crea questa situazione qui Che adesso Io vi mostro Quindi il pallone Va a Spinazzola I giocatori del Brighton Quindi Vanno Come vedete In pressione Immediatamente Addirittura Mi sono dimenticato Di mostrarvi Questo giocatore qui Questo qua Che va in pressione Quindi si va a creare Una situazione De questo tipo Lui si cerca Sempre Di avanzare Di andare verso La possibile azione E ovviamente Quelli del Brighton Vanno Subito In apprensione Vanno subito A chiudere Quindi una situazione Del genere Questo passaggio Poi ha creato Molte volte Una situazione Dove Dove il Brighton Andava fuori fase Perché Arrivava Il passaggio Quindi De Spinazzola Per Esharawi Esh E poi Appena passato Il pallone Spinazzola Si sganciava E Questo ha creato Confusione Nelle uscite Per Il Brighton Perché Come vedete Se andava subito In apprensione Il pallone Veniva passato E Spinazzola Si sganciava Subito Dopo aver Passato il pallone E di conseguenza Nella situazione Successiva Esharawi Appena Riceveva il pallone Andava a scaricare Nuovamente A Spinazzola E Nuovamente Esharawi Si sganciava Per creare Ancora più Sua priorità Numerica E Gli altri Giocatori Della Roma Cercavano Immediatamente Un buco Una Come ho detto Una zona Di campo Libera E questo Ha portato Il Brighton A correre Sempre All'indietro E quando tu Nel calcio Corri All'indietro Non arrivi mai All'avversario Non ci arrivi mai Quindi si è andata A creare Una situazione Di questo tipo Se passa la palla Spinazzola La riceve Scambio Con Esharawi Esharawi Riceve Nuovamente Il pallone L'uscita Come vedete In questo caso Qui l'uscita Del terzino È sbagliata Perché la pressione È troppo alta Se parte quindi Con un'azione Pericolosa Infatti Spinazzola In alcuni casi Si andava a spingere In avanti Perché si affidava La propria velocità E in molti casi L'Apte Non è riuscito A stargli dietro In altre situazioni Invece È successo Che Lo stesso Come vi posso dire Lo stesso Spinazzola Andava a ridare Il pallone Non puoi Giocare Contro La Roma Una squadra Ripeto Che Viva un momento De forma Eclatante In questo modo Perché poi La Roma In campo Ha giocatori Come Di Bala Ha giocatori Come Pellegrini Ha giocatori Quindi che sono Tecnici Ragazzi Sono giocatori Tecnici Che anche In fase di pressione L'abbiamo visto Soprattutto oggi Di Bala Di Bala In determinate situazioni Riceveva il pallone Possiamo Prendere una situazione De campo Dove veramente Riceveva il pallone Anche Pressato da Molti uomini Ragazzi Molti Tantissimi Forse anche Troppi uomini Eppure È riuscito Ad uscirne Ogni volta Perché Perché Nel caso in cui Il pallone partiva Per Di Bala E quindi I giocatori del Brighton Andavano subito A pressare Di Bala Di Bala era bravo A fare cosa Ad uscire Dalla pressione Che si andava a creare Perché portava la palla E a liberare Eventualmente Il pallone A Lukaku Per esempio O a Pellegrini Quindi Si sganciava immediatamente Questo pallone Si andava in profondità Con o Lukaku O Pellegrini O alcune volte Abbiamo visto proprio Un cambio di gioco Per Selic Un cambio di gioco Per Esharawes Si andava a creare Questi buchi qua Uscite Malsane E terzini Che dopo Ovviamente io Vi dovrei far muovere Tutto L'algoritmo Tutto il gioco Ma sarebbe Cioè Staremmo qui le ore Però io Penso di avervi fatto capire Qual è stato il problema Di questo Brighton La pressione Gestita male E gestita bene Invece Dalla S Roma Di Daniele De Rossi De Rossi Ha gestito la partita In maniera Perfetta Perfetta Io non ho Nient'altro da dire È stato un match Veramente clamoroso Mi sono piaciute Tutte e due Perché Dire che il Brighton Non è spettacolare È sbagliato Il Brighton È una bella squadra Da vedere È una squadra divertente Però il divertimento Ragazzi Scade Perché Io non credo Che stasera I tifosi e Brighton Sono andati a casa Contenti De sto risultato Assolutamente no Non sono andati a casa Contenti Sono andati a casa Scontenti Perché oggi Brighton Non si doveva presentare In maniera Così offensiva Giocare un calcio Offensivo Non significa Giustificare Determinate sconfitte La fase Di non possesso Del Brighton È imbarazzante È una fase Di non possesso Bruttissima Una delle peggiori In Europa E io so Già che Sotto questo video Avrò tantissimi Commenti De gente amante De De Zerbi Ma io sono il primo D'amare De Zerbi Io sono uno di quelli Che vi dice Che se De Zerbi Viene all'United Per sostituirte Nag Sarei anche contento Ma De Zerbi Deve imparare Che nel calcio La difesa Non è una cosa superflua Tu non puoi Come ho detto prima Manipolare E pretendere Che i tuoi giocatori Creino sempre Delle situazioni Del genere Dove si va A creare Un 4 contro 4 Un 3 contro 3 Dove i tuoi difensori Devono sempre Stare nell'1 contro 1 Perché ripeto Se tu sei in Manchester City Questa cosa la puoi fare E neanche in tutti i match Perché abbiamo visto Anche in finale De Champions Il City Guardiola Non ha giocato In quel modo lì Contro L'Inter D'Inzaki Però nella maggior parte Di casi Guardiola Gioca questo calcio qui Ma se tu non li hai Questi giocatori Se invece Rubendias Tu hai Dunk Che A me piace È un giocatore D'esperienza Ottimo nelle chiusure Ma Ragazzi È un giocatore Che nella fase Di ripartenza Soffre Oggi ha sofferto Tantissimo Lukaku Troppo Lukaku Dall'altra parte Ragazzi Io alla Roma Non gli dico niente Io sto parlando tanto Del Brighton Perché la Roma Oggi come ho detto Ha fatto la partita perfetta Questi scambi Sullo stretto Questi passaggi lunghi Lanciati Nel posto giusto Al momento giusto Hanno aperto La difesa Del Brighton Questi 1-2 Queste triangolazioni Hanno distrutto La pressione Del Brighton Oggi la Roma Ha giocato Come doveva giocare Oggi Daniele De Rossi Ha preparato La partita perfetta Perfetta Brighton Completamente bocciato Anche per la fase Offensiva Perché la fase Offensiva del Brighton Oggi è stata Scialba Non mi venite a dire Che la fase Offensiva De uno Dei migliori Allenatori D'Europa Questa sera Ha mostrato Una fase Offensiva Imbarazzante Perché è la fase Offensiva Di qualsiasi Altra squadra In Premier League Lo stesso Fulham Con William Fa la stessa cosa Lo stesso United Con Rashford Continua a passare La palla Al giocatore Più tecnico Con la speranza Che questo giocatore Tecnico Ti dia Quella giocata Ti faccia Quella giocata Quell'uno contro Uno vincente Per poi creare L'occasione Non è uno stile Offensivo E bello Oggi De Zerbi È stato Sterile Nella fase Offensiva E imbarazzante Nella fase Difensiva Questa è stata Una completa Bocciatura E prima De parlare De Zerbi Voglio chiudere Questo discorso Dicendo una cosa Prima De parlare De Zerbi De di che De Zerbi Ha fatto il miracolo Con il Brighton Ci date Potter Colui che ha preso Questa squadra E l'ha trasformata Nel modo in cui Noi adesso La conosciamo De Zerbi Ha messo il suo tocco E siamo tutti d'accordo I suoi schemi Il suo stile di gioco Ma chi ha fatto Partire questa squadra Non è stato De Zerbi E forse finalmente Vi siete resi conto Perché queste Badosse qui Ogni tanto Potter le prendeva Ma perché Potter Aveva un Brighton Molto più scarso Di quello che vediamo adesso Ma Non ne faceva Così tante Negli ultimi Tre mesi De Zerbi Sta prendendo Delle crine Enormi Ed è praticamente Fuori dall'Europa League È fuori dalla Carabeo Cup È fuori dalla FA Cup È fuori dal discorso Champions È in difficoltà anche Per il discorso Europa League Per la qualificazione Ed è quasi fuori Da questa Europa League Quindi Dov'è Il vantaggio? Il calcio offensivo È bello? Sì Sono il primo ad amare Quello stile di gioco? Assolutamente sì Ma ci sono situazioni E situazioni Non puoi proporre Uno stile di gioco del genere In un campo così difficile Non puoi Io la mia ve l'ho detta Fatemi sapere la vostra Qua sotto con un commento Vi ringrazio per la visione E alla prossima gente Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti